Entro due anni si riconsegnerà Palazzo Margherita, storica sede del Comune, alla città e sarà un momento molto importante per la comunità aquilana perché lì torneranno uffici pubblici a rivitalizzare una porzione di centro storico nella quale già diverse attività commerciali hanno da tempo riaperto i battenti. I lavori stanno andando avanti secondo il cronoprogramma stabilito. Dopo nove anni di fermo dal 4 settembre scorso è stato consegnato finalmente il cantiere e gli operai del Consorzio Margherita che si occupa dei lavori stanno procedendo con gli interventi per il momento soltanto all'interno prima di passare all'esterno, interventi che avrebbero anche portato alla luce sotto lo storico edificio alcune tracce del passato di un edificio preesistente ma è tutto ancora da valutare e verificare. Il Ruppo Mario Di Gregorio nelle scorse settimane ha effettuato un sopralluogo con il sindaco Biondi. La restituzione di Palazzo Margherita dopo due anni sarà un fatto molto importante per il primo cittadino, anche per la macchina amministrativa e la piena funzionalità degli uffici comunali. Dal punto di vista ideale per Biondi quella è la porzione di centro più importante. A nove anni dal terremoto i lavori sono iniziati soltanto nel settembre scorso, un iter davvero lunghissimo, una posa della prima pietra all'epoca dell'amministrazione Cialente, sotto servizi, poi adeguamento del progetto, autorizzazioni varie del genio civile, un ritardo giudicato da molti gravissimo che però sarà colmato se tutto andrà come deve andare. Una volta terminati i lavori all'interno del palazzo del XIII secolo si passerà alla facciata e verranno fissati dei pali tutti intorno al palazzo. A breve si procederà anche con questo tipo di attività. Il valore complessivo dell'appalto si aggira attorno agli 11 milioni e 600 mila euro.